Ciao a tutti ragazzi e bentrovati sul mio canale youtube da Simone Pasqua, il centro coordinamento del Nanaclabs inaugura un suo sito web per seguire tutte le news e tutte le attività fatte dal centro coordinamento del Nanaclabs e vi assicuro che sono tantissime, questo centro coordinamento è nato con la volontà di promuovere la città di Terni, di favorire lo scambio fra società e tifosi, di rivitalizzare un ambiente che sembrava un po' spento e devo dire che ci sta riuscendo davvero bene con ottime iniziative, con ottimi risultati, con ottimi traguardi, con ottime cose fatte e con ottimi piani di lavoro per il futuro, un gruppo di lavoro davvero ottimo, dei ragazzi fantastici che amano la Ternana e per loro è una vera ragione di vita e stanno facendo del bene alla città di Terni, lo stiamo vedendo con l'associazione Terni col cuore, lo vediamo con tutte le associazioni e tutte le organizzazioni del centro coordinamento del Nanaclabs io ora vi lascio in descrizione il link del centro coordinamento per non perdervi nessuna loro iniziativa io ora vi lascio in descrizione il centro coordinamento per non perdervi nessuna loro iniziativa